Rete, 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 vantaggio meritato per la Virtus Castelfreddano che l'ha fatto lui? Luca Rulli, la sua doppietta 3 a 2 in questo momento, ce lo siamo meritati la vittoria per un secondo tempo giocato alla grande ecco Pellegrina, Simone che è uscito un po' addolorante, si sta mettendo un po' di ghiaccio alla coscia un saluto ai tuoi oh dear, oh dear